Carlo Prevosto, esponente del PD, candidato sindaco per la coalizione di centro-sinistra, ieri ha vinto le primarie. Soddisfatto del successo elettorale? Tanti nuoresi sono recati alle urne. Soddisfatto soprattutto per la partecipazione e la dimostrazione che le primarie erano del centro-sinistra e non del PD e che il popolo di centro-sinistra ha voglia di partecipare e non di essere solo chiamato a votare e a portare acqua. Quali le prossime mose? Le elezioni saranno in autunno? Ci sono un paio di mesi per allestire lista e coalizione? Da oggi inizieremo a lavorare per riunificare il campo del centro-sinistra e renderlo meno frammentato possibile. Cercheremo di coinvolgere tutte le forze migliori della città per cercare di lanciare in oro su uno sguardo a dieci anni e quindi verso il futuro e non a contemplare le divisioni e le cose che non vanno. Un paio di punti del suo programma in vista delle elezioni? In un'intervista breve con la televisione la posso riassumere in due battute. Vorrei che in oro si riappropriasse del proprio futuro, iniziasse a pensare ai prossimi dieci anni e non alle cose che non funzionano e a rimuginare sulle occasioni perse nel passato. Quindi credo che il primo compito a cui noi dobbiamo assolvere sia quello di ridare ottimismo e prospettiva a questa città.